. GF Vip, Ivana Merzova e Luca Onestini insieme in una SPA, gli indizi Wingsuiden. Arrivano nuovissimi aggiornamenti su una delle coppie più seguite delle ultime settimane. . Nella giornata di ieri Cancelletto Luca Onestini ha pensato bene di postare sui social alcuni video ed alcune immagini che lo ritraevano in un albergo vicino Verona. Fin qui ovviamente non ci sarebbe niente di male se tutte le foto ritraessero soltanto il bolognese e non una borsa da donna nella sua camera. . Questo particolare infatti ha immediatamente attirato lattenzione di tutte le fans di Luca che da giorni sperano che il loro beniamino possa confermare tutte le voci riguardanti una sua presunta storia damore con Ivana Merzova. . Cè da aggiungere inoltre che era risaputo da giorni che lex tronista ieri avrebbe dovuto pranzare insieme a Raffaello Tonone la modella cieca. Ivana è insieme a Luca. . Ieri oltre a tutti i post pubblicati da Luca ce ne sono stati alcuni di alquanto sospetti anche da parte di Ivana, video. La modella cieca infatti ha postato alcune foto dove lei è ritratta in accappatoio in una stanza dalbergo molto simile a quella di Luca Onestini. . I due giovani infatti dalle immagini sembrano trovarsi nello stesso luogo, probabilmente una SPA in provincia di Verona. . Inoltre la Merzova qualche giorno fa ha dichiarato a pomeriggio 5 di essere ritornata single dopo aver interrotto la sua storia damore con Alessandro Allevato. . C'è da aggiungere anche che Ivana in più di unoccasione si è mostrata anche veramente molto critica nei confronti del comportamento che Soleil Sorgea ha avuto nei confronti di Luca e di tutta la sua famiglia. . Ovviamente tutti gli indizi sopracitati potrebbero far pensare a tutti i fans dei due ragazzi che ci sia veramente una storia fra Luca ed Ivana ma anche che tutto questo possa essere soltanto una montatura creata ad arte solo per fare business. . Per il momento è tutto con le nuovissime news provenienti dal fantastico mondo del gossip e della televisione, per ulteriori aggiornamenti su Luca, Ivana e gli altri ex. . Concorrenti del cancelletto Grande Fratello Vip, vi diamo appuntamento a più tardi sempre qui su Blastino Nieves. .